D'Amma Jeunesse, con il Saint-Pain, con la Sebbiette d'Alain-Français, le première lecture de Vaudreuil-Séthée, Palais Fleurs du Marmé, I Fiori del Male. E leggevo Il vino degli amanti. Oggi lo spazio è splendido. Senza morso, senza sproni, senza briglia, partiamo a cavallo del vino per un divino e fantastico cielo. Come due angeli, torturati da una febbre implacabile, nell'azzurro cristallo del mattino seguiamo il miraggio lontano. Mollemente cullati sull'ara del turbine intellettuale, in un delirio parallelo, o mia sorella nuotante al mio fianco, noi fuggiremo senza riposo né tregua, incontro al paradiso dei miei sogni.